A meno di un regno, a me piace, da un riconquistato egipio per mio figlio, mi devo così tanto di mio, che io sarò un giro di chiama per il mio di chiama. Stati volando, è avuta delle mani in un principio, non l'ha avuta. Lascia che le mani riservi da tuo centino sotto il suo. Prego, dimmi che il suo arcello è della sua fortuna, che riconosco la sua gloria, ammettendo la sua conquista, ma ogni ora approvo e capisco una lezione di obbedienza e volentieri vedrai la sua. Sono, se lo dirò oggi, non solo, che so che la tua sua fortuna è compiata con te. Avete visto come è stato facile sorprenderso? Tieni l'occhio, tu, finché non giunge, Cesare! Che padre mia, signor, ti hanno perduto a perdita? Quello, che è meglio, signor! Non pare se stessa un fatto simile, sei stata posta in salvo e non tradita. E' una profetità in grado a parte, che per un signor di liberare in carica, stella male! Mi padre, non insultare la gentilità del tuo signore, togliati la vita. Lascia che il mondo possa ammirare quella sua nobile prevenza che la tua morte vedrete! Questa è la morte? Vieni, vieni, prenditi la regina che non è di parte e parte i miserati! Signora, calmatevi! Signore, questo è il valore mortale, io ho vinto a distruggerlo! Faccio Cesare, per il che vuole! Sappi, sappi che mi hanno perdonato, accatenata, alla corte del tuo padrone, dovrei lasciarmi sollevare le scorte, alla impregante brevaglia dell'Urlanda Roma! No, no, piuttosto una forza, sia la mia gentile con un vecino, e l'istesa nuda, che nel senso del mio contino, sino all'orrore! Che trasfermi agli, c'era la mia forca, e l'impiccata di carica di catene! Le tue paure superano, con la loro fantasia, un'intenzione intesa, avrai modo di venire a te le conti! L'oculamento, il tuo signore padrone ha saputo cosa hai fatto con lui! Per quanto riguarda la regina, la prendo lì, sotto la mia storia! Bene, donabella, preferisco così! Mi ferirò a Cesare, con il tuo desiderio, se accetti questo buon servizio! Digli che vorrei morire! Avete mai invito il portai? Non saprei dirlo! Certamente mi sono scegliaci! Sì!